Ciao ragazzi, ciao ragazze, mi presento, sono Mamma Baiti, un ex allieve dell'Istituto Grandis Tecnico Turistico di Cuneo e sono qui oggi per condividere con voi in breve la mia esperienza, sperando che possa essere utile a qualcuno di voi. Tutto è iniziato da un grandissimo sogno, un grandissimo obiettivo che avevo nella vita, ovvero quello di scoprire il mondo, sapere come funzionava, quali erano i suoi pregi, i suoi difetti e devo assolutamente ammettere che il tecnico turistico mi ha aiutato moltissimo in quest'impresa, ha saputo darmi le basi giuste per affrontare quello che sarebbe arrivato dopo. Attualmente sono una studentessa al terzo anno di università, ho scelto la facoltà di scienze politiche e relazioni internazionali e devo assolutamente dire che mi trovo molto bene e gran parte di questo è merito soprattutto all'indirizzo che ho scelto e al supporto che ho avuto dai miei ex professori delle superiori, che hanno sempre saputo tirare fuori il meglio di me, che hanno sempre saputo darmi la giusta spinta, la giusta motivazione per affrontare al meglio quello che mi aspettava. Ragazzi, quello che mi sento di dirvi è di avere un sogno, avere un obiettivo, crederci e soprattutto di impegnarvi. Non sarà mai semplice, qualsiasi cosa voi abbiate in mente, qualsiasi sogno voi abbiate, non sarà facile ma con tanta forza e tanta buona volontà potrete raggiungere qualsiasi cosa e soprattutto ci tengo che sappiate che nulla è impossibile, basta crederci. Vi saluto sperando di poterci vedere un giorno dal vivo e in bocca al lupo per tutto. Ciao!